Sol, caffè le palmieri voce, Daniele Parisi, chitarra, aldo, tridente, basso, Silvio Zona, batteria. Ci provorranno brani del loro mitico gruppo dei Dors. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info No, no, no. No, 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 no. No, no, no.